Case popolari, nuova legge rinviata, slitta a settembre la discussione sui nuovi requisiti per l'accesso ai bandi degli alloggi ERP, polemica tra la maggioranza e la Lega. Dibattito sulla FIPI, lì approvata mozione per accelerare i lavori nel tratto interessato dalla frana di gennaio, aperto il confronto sulla possibile nuova società di gestione. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, prima della pausa estiva, ha tenuto banco la questione della nuova legge sulle case ERP rimandata a causa dei 2.000 emendamenti presentati dalla Lega. Ne abbiamo trattato anche nel TG Noi. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che in relazione alla regione Lombardia ha definito illegittimo lo sbarramento dei 5 anni di residenza per accedere ai bandi delle case popolari, la maggioranza di centrosinistra e Fratelli d'Italia avevano trovato l'accordo per una rimodulazione della legge, che favorisse comunque, sia pure in modo graduale, chi risiede in Toscana da più tempo. Un compromesso ritenuto però insufficiente dalla Lega, contraria comunque al cambiamento della legge, che ha quindi bloccato l'iter. Sentiamo le interviste a partire dalla capogruppo della Lega, Elisa Montemagni. Noi lo giudichiamo opportuno perché approvare una legge che sarebbe stata un disastro sul territorio per noi era sbagliato. Certo, se il PD avesse subito ascoltato quello che noi gli chiedevamo e avesse preso in considerazione i nostri emendamenti che garantivano l'uguaglianza di accesso alle case popolari a tutti i cittadini che ne facevano richiesta, probabilmente si sarebbe posa a votare. E ci tengo a dire che noi eravamo pronti a star lì fino a ferragosto per arrivare a una soluzione. È stata sposta da settembre e io spero che questo tempo sia utile al PD alla maggioranza per valutare l'opportunità che secondo noi diventa indispensabile di inserire criteri che garantiscano le uguali opportunità a tutti i cittadini che fanno richieste e che hanno bisogno. Però quello che noi abbiamo letto in questi giorni sono anche le accuse da parte del PD che ci dice che abbiamo bloccato i bandi. Sono bugie. I bandi si possono fare, la nostra legge è vigente, non è impugnata, non è oggetto di sentenza, quindi tutti i comuni possono fare i bandi. Dirò di più, le graduatorie in essere possono scorrere perché ovviamente finché non ci saranno le nuove graduatorie rimangono in essere quelle vigenti. Le case popolari possono essere assegnate e spero che tutti i sindaci lo facciano perché ci sono molte, troppe persone che aspettano da anni se non da decenni. Ma è sempre opportuno approfondire una legge che è così importante che riguarda l'edilizia popolare. La casa per molte persone è un sogno per la loro vita, avere un'abitazione di disponibilità pubblica è importante, è un diritto, ma noi dobbiamo anche tutelare ovviamente il nostro patrimonio inserendo anche dei meccanismi di doveri da parte delle persone. Nella scorsa legislatura è stata fatta una legge, a mio avviso, ottima rispetto all'attribuzione degli alloggi popolari, concertata, discussa, arrivata in fondo. Si tratta di migliorarla, laddove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è perché comunque comprende anche delle nostre richieste, quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno cinque anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione consentendo comunque a tutti di fare domanda, dando un principio importante, mantenendo un principio solidaristico importante cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno ma nel frattempo consentire magari anche la cosiddetta classe media di poter accedere e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falciliato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. Ma un atteggiamento assolutamente incomprensibile perché questo istruzionismo che la Lega sta praticando per la modifica della legge 2, la legge toscana che è una buona legge che però va modificata sulla base della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale che ritiene alcune norme che prevedono la impossibilità di accesso alle gradatorie se non c'è una permanenza della residenza in Toscana così come prevedeva la legge per più di cinque anni come norme discriminatorie. Noi abbiamo inteso adeguarci a questa sentenza della Corte sentenza tra l'altro emessa sulla base di norme vessatorie che alcune regioni amministrate dalla Lega hanno prodotto sono la Lombardia e l'Abruzzo ad esempio e anche sulla base della richiesta che tutti i sindaci, l'Anci ce l'ha chiesto perché i sindaci hanno bisogno di pubblicare bandi per rinnovare le gradatorie e aspettano questa modifica per non fare bandi che non siano soggetti ad impugnativa e quindi ecco perché avevamo inteso approvarla in tempi rapidi in più i più danneggiati saranno i cittadini le famiglie che hanno requisiti per poter fare la domanda che sono al 90% tra l'altro cittadini italiani che invece dovranno aspettare perché i bandi saranno fatti più tardi quindi è un atteggiamento per noi incomprensibile era stato trovato un accordo in commissione anche con una parte dell'opposizione per trasformare la soglia di accesso in un punteggio premiale ma che rispettasse comunque il dettato costituzionale e quindi noi pensiamo che questa cosa sia assolutamente sbagliata e a settembre ci troveremo a riprendere questa discussione e a quel momento lì ad adeguare la legge toscana a quelle che sono le sentenze emesse dalla Corte Costituzionale d'altro canto dovremo farlo perché per la Toscana gli alloggi popolari, il diritto alla casa è una priorità che noi abbiamo sempre cercato di rispettare e di affermare anche con atti concreti ricordo che nella scorsa legislatura sono stati investiti oltre 200 milioni per quanto riguarda questo settore per dare la risposta ai nostri cittadini ci sono tantissimi comuni che vorrebbero uscire con i nuovi bandi per le case popolari noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto un lavoro importante in commissione ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante dove appunto la storicità della residenza è un criterio premiale così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana nelle nostre città da anni e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità se non di più di chi vive qui da anni Sono sorpreso della legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica in regione Toscana e sono sorpreso da due fattori prevalentemente il primo è che la sentenza della Corte Costituzionale non impugna la legge della regione Toscana impugna un'altra legge noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani cioè a chi sta in questo paese da più di dieci anni abbiamo sempre fatto questa battaglia nei primi cento in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica 70 sono extracomunitari a maggior ragione in un momento difficile come questo dove c'è tutta una fascia grigia che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case e poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica che è un altro grandissimo tema che in questo paese in regione Toscana non viene affrontato non si costruiscono più case e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del piano nazionale di resilienza non c'è un euro per la costruzione di nuove case noi è fermo il piano case è l'ultimo piano case fatto è del 1974 non sono state più costruite case addirittura i dati ci dicono che ci sono centinaia di migliaia di case in Toscana che sono sfitte che sono vuote o che sono occupate e che i comuni non se ne riappropriano per darlo a chi effettivamente ne ha bisogno ecco perché a prescindere da quando arriverà la legge di edilizia residenziale pubblica la discuteremo molto probabilmente nel primo consiglio regionale di settembre porteremo dentro quella legge lì un criterio sacrosanto la casa la deve avere chi da tanto tempo sta in graduatoria e chi sta in Toscana la legge andava fatta perché si tratta di sanare oltre che una grave ingiustizia sociale anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più Cambiamo argomento rimane un tema caldo quello della FIPI lì in consiglio è stata approvata una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi per completare quanto prima i lavori previsti per la messa in sicurezza della Firenze-Pisa-Livorno sul tratto interessato dalla franna del gennaio scorso respinte invece altre mozioni presentate dalle opposizioni sullo sfondo l'intenzione espressa dal Presidente Gianni di creare una nuova società di gestione per la strada di grande comunicazione anche in questo caso sentiamo le interviste Devo dire soddisfatta anche dell'approvazione del nostro atto collegato alla comunicazione dell'assessore Baccelli la mozione del PD che è stata approvata nello scorso Consiglio e che chiede oltre aver accolto i progetti della Giunta regionale chiede però che con quegli strumenti si realizzino interventi e investimenti definitivi sulla FIPI lì al di là del modello di gestione di avere una società in house che si occupa delle strade ciò che conterà sarà il livello e non solo la quantità ma anche la qualità degli investimenti come abbiamo visto di recente nel balletto tra le istituzioni è successo che un finanziamento importante che serviva a risolvere i problemi più urgenti della FIPI lì sia di fatto entrato definitivamente nelle casse della città metropolitana soltanto con l'atto dirigenziale ultimo del 13 luglio pensate e l'intervento in via d'urgenza non era stato consentito in un primo momento quindi è chiaro che gli enti locali erano norme stringenti forse la società nuova potrà essere una risposta dal punto di vista burocratico quello che è certo è che deve rimanere alta l'attenzione su un futuro di medio-lungo periodo per quella strada non soltanto volto a rappezzare di volta in volta intervenire sulle urgenze questo ci è stato assicurato che verrà fatto questo chiede al governo l'atto del PD approvato nello scorso consiglio collegato alla comunicazione della giunta io ho scritto mesi fa IRPET che è l'istituto che studia i flussi della Toscana e IRPET ci comunica che la FIPILIC così com'è costa 100.000 euro il giorno ai toscani in termini di minore chance minore opportunità e in termini di maggiori costi sociali significa che costa su 5 giorni una settimana 500.000 euro la settimana 2 milioni di euro il mese oltre 20 milioni di euro l'anno questi sono i costi della FIPILIC continuare a avere una delle arterie fondamentali della Toscana in queste condizioni significa dare meno chance più costi più pesantezza a tutto il sistema toscano sia delle imprese sia dei lavoratori sia di chi vuole più semplicemente andare a giro andare al mare andare in vacanze e vi dicendo deve essere risolto il problema Gianni ha lanciato l'idea di Toscana strade SPA noi non siamo pregiudizialmente contrari però che ci dica che cosa vuol fare perché finora è un fumetto senza nessun tipo di riscontro in tre anni la regione Toscana ha messo sulla FIPILI 43,7 milioni di euro dove sono finiti quei soldi cosa si è fatto con quei soldi la viabilità è migliorata o peggiorata chiedetelo a chi la fa tutti i giorni chi sta due ore in coda chi ancora oggi a causa di una frana è rallentato da oltre due ore un anno fa ci sono stati lavori ininterrotti per otto mesi chiedevamo da oltre un anno e mezzo di fare i lavori anche di notte finalmente ci hanno ascoltato e cominceranno a farli di notte ma quella è una strada che va non soltanto rifatta va completamente cambiata perché è un'arteria fondamentale siamo contrari al pedaggio questo lo diciamo molto forte in termini molto chiari se verrà portato una nuova gabella per i toscani sia per le auto private o anche per i tir ma perché penalizzare gli autotrasportatori che quella strada la fanno perché quella strada serve un distretto che per la nostra economia vale il 3% del PIL interno lordo della regione toscana che è il distretto conciario di Santa Croce un distretto fondamentale in termini economici e in termini occupazionali perché dobbiamo penalizzare le imprese che lavorano lì ecco perché diciamo no al pedaggio sulla società unica noi siamo disponibili a parlarne a patto che non costi un euro in più per le tasche dei cittadini che non vi siano i consigli di amministrazione dove ci sono le poltrone e poi la domanda è perché fare una società in house oggi la provincia la gestisce in maniera diretta attraverso un bando non si capisce perché non lo possa fare la regione toscana per noi quello che è evidente è che ciò che manca alla FIPP lì che è sempre mancato è una progettazione di medio e lungo respiro e soprattutto soldi finanziamenti appurato che dal PNRR non si possono prendere e che i fondi della regione toscana non bastano l'unica cosa che si può fare è guardare al nuovo settennato dei fondi europei strutturali e al governo nazionale sicuramente creare più poltrone con un nuovo CDA non aumenterà i soldi che già ci sono piuttosto moltiplicherà le poltrone cosa che sembra essere uno degli interessi principali di questa giunta in questa fase iniziale in questo primo scorcio di legislatura Pausa estiva per il Consiglio regionale si riprende a settembre sentiamo il Presidente Antonio Mazzeo Innanzitutto consentitemi di ringraziare gli uffici tutti del Consiglio della Giunta è stata una settimana intensa frutto di un grande supporto da parte degli uffici ringraziare tutti i colleghi per l'impegno e la dedizione che ci hanno messo in questi mesi difficili della pandemia ci aspetterà un inizio intenso pieno di temi importanti si parlerà dell'ERP si parlerà dei fondi strutturali cosa chiederemo all'Europa come potremo permettere alla Toscana di ripartire più veloce si parlerà del piano dell'economia circolare perché una regione che vuole competere deve avere la capacità di saper smaltire di saper riciclare tutto quello che produce nel proprio territorio insomma sarà un settembre caldo e poi all'ordine del giorno come sapete ci sarà la modifica dello statuto che abbiamo deciso di calendarizzare subito al rientro tutto per questa puntata di Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.